Incidente stradale mortale nella notte a Giulianova a perdere la vita. È stato un motociclista di 27 anni, Federico Berigli, che secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del mezzo in curva all'altezza di via Montello andando a finire fuori strada. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 giunti dall'ospedale di Giulianova per prestare soccorso. Sul posto per i rilievi sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale della cittadina Teramana.